L'altro giorno stavo parlando con una mia unica giornalista e lei mi ha raccontato che i trend di questa estate sono alimentazione sana, cura e attenzione dell'ambiente e benessere naturale. E io ridendoli ho detto, fantastico, allora io sono di tendenza da 30 anni, visto che ne parlo da allora. Questa estate vuoi seguire anche tu la tendenza che va per la maggiore? Allora abbi cura di te, soprattutto a tavola. E adesso spiegarò anche a voi i miei trend di benessere per questa estate. Approfitta del periodo estivo e delle vacanze per scegliere di ordinare se sei fuori o di prepararti a casa del buon cibo sano, leggero, genuino, preferibilmente vegetariano. Visto che per una volta la tendenza del momento è sana, seguiamola tutti. In Italia abbiamo tanti problemi, ma almeno c'è la dieta mediterranea che rappresenta una buona linea guida alimentare con garanzia di autenticità, semplicità, sapore e salute. Per accontentare tutti i palati vi darò tre ricette che mettono insieme i must della tavola di quest'estate. Gusto, freschezza e leggerezza. Ed ecco un altro consiglio di tendenza, evitate anche voi gli sprechi a tavola, adoperate la vostra sensibilità e consapevolezza. Non fate troppi bis quando mangiate fuori ai buffet per poi lasciare il cibo nel piatto. E a casa non dimenticate il cibo in dispensa per poi lasciarlo scadere, non è sano. Prestate attenzione anche a questo. La salute di ognuno di noi è legata alla salute e alle risorse del pianeta. E mettete un bel mi piace a questo video. Tanti mi piace, tanti nuovi video. Quindi veniamo alle nostre tre ricette preparate da Serena Babbo, mia grande amica, autrice con me di diversi libri di ricette crudiste e vegane e chef salutista. Ci preparerà tre ricette che vedrete e vorrete fare subito anche voi e secondo me diventeranno un tormentone dell'estate. Tutti a mangiare sano e leggero ma con gusto. Prima ricetta, un fantastico green smoothie o frullato verde, ottimo per colazione, ricco di clorofilla per dare tanta energia. Una ricetta super energetica per il mattino. Il green smoothie. Gli ingredienti di cui abbiamo bisogno sono latte di mandorla, roux, spinaci, banana e kiwi e di un potente frullatore. Il procedimento è semplicissimo. Aggiungiamo il latte, gli spinaci, i kiwi e la banana. Chiudiamo e frulliamo. Bene, il nostro smoothie è pronto. Buon lavoro a tutti. Bravissima Serena e per conoscere tante altre sue ricette insieme ai miei consigli di salute naturale basta iscriversi al canale. Clicc. Seconda ricetta, un piatto di spaghetti fatti con le zucchine, molto leggeri, con poche calorie per un pranzo veloce e gustoso. Ricetta tutta grina, gli spaghetti di zucchine con crema di rucola e olive taggiasche. Gli ingredienti per questa ricetta sono Anacardi al naturale, precedentemente ammollati per almeno 8 ore. Rucola biologica fresca. E i mancabili zucchine biologiche. Il condimento invece è costituito da olio extravergine d'oliva, succo di limone, sali malagliano, lievito in scaglie e olive taggiasche. Gli strumenti che utilizzeremo sono un paio di guanti in monouso, un pela patate, lo spiralizer e il frullatore. Prima di tutto dobbiamo prendere le nostre zucchine, il pela patate e togliere la buccia, in questo modo, premendo leggermente. Ora prendiamo lo spiralizer, mettiamo in questo modo la zucchina che sia ben prezzata e cominciamo a girare la manovella in modo da ottenere gli spagotti. Prepariamo la crema di rucola. Nel frullatore mettiamo gli ingredienti. Prima di tutto la rucola. Spingiamo bene in fondo in modo che le rame riescano a girare e quindi a creare un vortice. Dopodiché mettiamo gli anacardi. In questo modo. Aggiungiamo il condimento, quindi succo di limone. Olio. Lievito in scaglie. E un pizzico di sale. Aggiungiamo due dita d'acqua. E azioniamo il frullatore. Ora condiamo gli spaghetti con olio e sale. In questo modo. Pizzico di sale. E mescoliamo. Aggiungiamo la crema di rucola. Mescoliamo. Buon appetito. Freschissimo e delizioso. Terza ricetta. Un dessert a dir poco magico. Dolcissimo ma senza zuccheri. Fatto solo con frutta fresca. È adatto a concludere per esempio la cena. In freschezza e in bellezza. Ricetta dolce. Fresca. Adatta a grandi e piccini. E anche agli intolleranti. Il gelato alla frutta. Gli ingredienti per il nostro gelato sono la banana e la pravola. Tagliati a pezzi e messi in freezer la notte precedente. Poi per ottenere la cremosità del nostro gelato utilizzeremo un frullatore. Il gelato è pronto. Buona passeggiata. Avete visto quanto è facile mangiare con gusto e restare in salute? Vi è piaciuto questo video? E allora condividete anche voi le ricette tormentone di quest'estate con i vostri amici e sui vostri social. Scrivete qui sotto i vostri commenti, le vostre domande e raccontatemi le vostre esperienze. E sul mio sito, al link che trovate nell'info box qui sotto, cante altre ricette e tanti consigli per un'estate piena di energia, bontà e salute. E iscrivetevi al canale, naturalmente. Ciao! Ciao! Grazie a tutti.